Andiamo al segno della Vergine, per voi amici della Vergine invece qualche spesa di troppo devo dire, forse state esagerando, volete fare le cose in grande per questo Natale però insomma cercate di moderarvi, è vero che Mercurio in questa posizione vi permette anche di guadagnare però insomma quando si esagera è sempre sbagliato, vi sentite bene, vi sentite fiduciosi, vi sentite ottimisti e questo fa sì, che anche i cordoni della vostra borsa tendano un pochettino ad allargarsi eh, ok, bilancini?